buongiorno ragazzi sempre in quest'ottica di micro lezioni vi propongo oggi una riflessione sull'illuminismo perché mi piacerebbe che potesse essere un incentivo a non scoraggiarvi mai davanti a un argomento nuovo a un qualcosa che non conoscete prima dell'illuminismo noi abbiamo considerato in storia della letteratura per esempio la prosa scientifica con galileo galilei e nel seicento infatti si fa strada questa nuova concezione del sapere che è basata non sulla tradizione sulle quelle che venivano chiamate le autorità nel medioevo ma è portata avanti attraverso l'esperienza cioè la scienza non si basa più su delle verità accettate e non dimostrabili ma si basa su esperimenti che possono essere ripetuti allora ecco che se abbiamo in mente questo concetto capiamo anche come l'illuminismo possa nascere e affondare proprio le sue radici già nel periodo precedente il termine enciclopedia deriva da un'espressione greca che sarebbe più o meno enchiclios paideia che vuol dire educazione circolare circolare avrebbe il significato di completa e poi anche meritevole di essere conosciuta l'idea era già stata di raccogliere il sapere in un insieme diciamo ordinato era già stata portata avanti da aristotele e da aristotele poi viene ripresa in diversi periodi e arriva nel medioevo dove si le enciclopedie del medioevo si chiamano summa no sono le summe come la summa teologica di santo masod'aquino che si propongono proprio come atlanti del sapere qual è la differenza allora mi direte voi allora non è vero che l'enciclopedia è settecentesca no certo che è settecentesca l'enciclopedia però è anche vero che nel medioevo queste raccolte di sapere erano strutturate secondo una visione che basandosi sulle autoritas sulle sui principi della tradizione vedevano il l'insieme del sapere messi in ordine su una scala gerarchica dove al livello più alto stava la teologia qualche cosa che l'uomo non può definire con la sola ragione ecco qual è la differenza tra l'enciclopedia che viene prodotta in periodo settecentesco e quelle precedenti l'enciclopedia che viene prodotta dagli illuministi ha delle caratteristiche di raccolta del sapere che non prevedono una gerarchia non c'è un sapere una scienza che vale più delle altre non c'è sono tutte sullo stesso piano tutte sullo stesso livello illuminismo quindi no dicevamo alcuni passaggi abbiamo fissato come epoca il 1700 già dalla prima metà è del settecento noi abbiamo pensatori illuministi già in gran bretagna venne pubblicata proprio intorno agli anni venti trenta del settecento un una ciclopedia che raccoglieva tutta una serie di saperi e che viene poi ripresa ed è alla base del progetto dell'enciclopedia così come poi viene concepito in francia dall'editore breton viene portato avanti questo progetto da pensatori e poi anche da rivoluzionari francesi però attenzione io qui ho indicato per diciamo raccogliere ma ci sono dei pensatori che non non ritengono che la per forza no questa concezione del sapere debba essere rivoluzionario e e soprattutto non ritengono che debba essere violento e praticato attraverso la violenza cosa che invece poi la rivoluzione porterà gli ingredienti dell'illuminismo di questa corrente filosofica di pensiero politica culturale sono la modernità perché l'illuminismo guarda avanti guarda più in là di quello che si conosce fino a quel punto e guarda anche più in là proprio nel senso di attribuire all'essere umano una maggiore dignità ma a tutti gli esseri umani non solo a qualcuno è un movimento una corrente laica perché la religione della che fa riferimento all'illuminismo è la ragione parliamo del termine illuminismo assume un carattere differente a seconda dei paesi dove viene appunto adottato sono diversi perché per esempio in in germania sarà auf klar um abbiate pazienza e la mia pronuncia di questa parola tedesca ma è giusto per darvi un'idea dove il termine viene tradotto in diverse lingue e anche l'inglese enlightenment una cosa del genere abbiate pietà in francese l'epoca dei lumière in italiano è appunto l'illuminismo perché questo termine è una metafora noi sappiamo che la metafora è fare riferimento a una realtà che conosciamo per capire una realtà nuova meglio in base a quello che già sappiamo è la metafora della luce e a tutti notano la luce porta visibilità di tante cose che al buio non si vedrebbero e in particolare per questa corrente illuminista viene fatto riferimento alla metafora religiosa della luce dove la luce non è quella del sole ma è quella divina di dio ora però questo termine nel settecento da questi pensatori che vogliono innovare la tradizione culturale viene usato in senso di luce della ragione che dirada le tenebre della superstizione e dell'ignoranza che erano legate in qualche senso alla 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 religione no in l'intesa come chiesa che teneva in un in una situazione di ignoranza il popolo no pensate solo ai testi religiosi no a parte in germania ma non erano tradotti il popolo non poteva accedere alla alla sacra scrittura e questo verrà solo tempi successivi e quindi la chiesa era decisamente alleata del potere temporale del potere del sovrano no per esempio infatti quando nel 1750 verranno pubblicati i primi due volumi delle enciclopedie che compariranno proprio appunto 750 751 saranno proprio i gesuiti che attaccheranno duramente la pubblicazione di questi volumi e otterranno perché erano molto vicini al potere regio la soppressione di questa pubblicazione perché secondo loro l'enciclopedie sarebbe stata concepita per distruggere l'autorità del re e sarebbe stata una forma di ribellione di fatto l'opera dopo numerose interruzioni delle pubblicazioni nel 1772 nella seconda metà del settecento venne portata a termine e in maniera completa comprende 17 volumi di testo e allora non c'erano le infografiche 11 volumi di tavole illustrate che erano separati guardate ragazzi che anche ai tempi miei io ho studiato storia al liceo su un libro di testo che aveva un apparato iconografico alla fine del testo quindi c'era l'apparato iconografico separato invece adesso noi possiamo godere no della dell'insieme di parole e testo appunto di una grafica precisa che aiutano sostiene il testo quindi nell'enciclopedie in questi 17 volumi una piccola curiosità visto che noi siamo in questa parte d'italia che è la sardegna e la provincia di oristano ad oristano noi abbiamo un'edizione dell'enciclopedie quasi completa mi sembra di ricordare che manchi un volume o due massimo però ecco se vi venisse la curiosità sapete che ad oristano in curia potete trovare tutta la pubblicazione dell'enciclopedie vediamo quindi il nuovo dio il nuovo punto di riferimento alto è la ragione attraverso la quale l'uomo può affrancarsi dalla dall'ignoranza e dalla superstizione il concetto che sta alla base dell'illuminismo è poi il progresso perché attraverso la scienza e le scienze meccaniche la società può progredire per gli illuministi sicuramente in positivo guardate io mi sono chiesta anche in questo periodo nel quale noi stiamo vedendo quanto possano essere utili efficaci e decisamente diciamo necessari questi strumenti tecnici e però quanto ci ci tolgono di di umanità di relazione anche nel semplice contesto della lezione da una parte c'è un vantaggio dall'altra parte però bisogna anche cercare di essere abbastanza misurati nel dire che sono uno strumento di progresso che non comporta comunque delle rinonce in qualche senso non facciamo come i progressisti illuministi che tanto portarono di di utile ma poi dovettero anche rendersi conto che la scienza e il progresso possono portare anche delle conseguenze negative sicuramente uno dei requisiti dell'illuminismo è l'essere aperto e disposto alla diffusione del sapere come è strutturata l'enciclopedia è strutturata in maniera aperta alle tecniche didro scrisse ci siamo rivolti ai più abili artigiani di parigi e del regno ci siamo presi la briga di andare nei loro opifici di interrogarli di scrivere sotto la loro dittatura sviluppare i loro pensieri trovare termini adatti ai loro mestieri tracciare le relative tavole e definirle si trattava dunque di svolgere un'opera non solo di informazione attenti è la parola informazione ma soprattutto di formazione perché attraverso la lettura delle enciclopedie un lettore che loro chiamano filosofo il lettore che si accinge alla lettura di una voce delle enciclopedie può realmente riuscire a realizzare qualcosa anche di tecnico perché lì è spiegato guardate per attualizzare di recente è uscito un film che è tratto da un libro il ragazzo che catturò il vento che parla proprio di un'esperienza di questo ragazzo questi anni è recente la storia che spinto dalla curiosità di conoscere e avendo scarsissimi mezzi di accedere al sapere però alla fine riesce ad accedere a una biblioteca dove trova un testo nel quale viene descritto come si realizza una pompa idraulica e lui la realizza e salva la propria famiglia e anche molte famiglie di quella zona dell'Africa intorno al Mozambico dalla miseria nera dalla fame perché riuscirà ad ottenere l'acqua per le coltivazioni quindi in questo senso io parto dicendo mi piacerebbe che per voi questa micro lezione fosse un incentivo piacque questo spirito illuminista che valorizzava la dignità della persona e di ogni persona umana anche al nostro Cesare Beccaria lo abbiamo visto in classe ce l'abbiamo sull'antologia è il nonno di Alessandro Manzoni ed è lui che nella sua celeberrima opera dei delitti e delle pene sostiene per la prima volta la necessità di abolire la tortura e anche la pena di morte e è sempre beccaria che per la prima volta sostiene che la pena non debba essere una punizione ma debba invece servire per recuperare il colpevole a una vita in società e questo è molto importante sempre in Milano incontriamo Pietro Verri anche lui di famiglia nobile è il fondatore di una rivista letteraria che ha nome Il Caffè nella quale rivista per un paio d'anni fino a che non gliela chiuderanno lui riesce a parlare di vari argomenti di attualità e a diciamo vivificare il dialogo culturale sarà in rapporto epistolare cioè per lettera con gli illuministi francesi e d'Alembert per esempio arriverà anche a Milano proprio per vedere come lavora Verri alla pubblicazione di questa rivista all'opera dei delitti e delle pene farà riferimento anche Leopoldo di Toscana che per primo tra i vari capi di territori perché allora logicamente non c'era l'Italia Unita abolirà nel suo territorio nel Gran Ducato di Toscana la pena di morte sempre in vista di una felicità per quanti più possibile anche per Cesare Beccaria l'obiettivo da perseguire era la felicità del maggior numero tanto che lui riteneva valida una pena nel caso in cui ci fosse se non fosse stata inflitta un pericolo per la società e infatti ancora oggi se voi collegate un pochino si usa l'espressione un pericolo pubblico ecco per beccaria la pena doveva essere mirata al recupero del colpevole in società ma non nel caso in cui quel colpevole potesse costituire un pericolo pubblico altro rappresentante significativo dell'illuminismo e dell'illuminismo francese è il filosofo ginevrino Jean-Jacques Rousseau noi qui lo ricordiamo in particolare per alcuni dei punti che caratterizzano il suo vasto pensiero in particolare Rousseau sosteneva che in natura non c'è disuguaglianza tra gli uomini cioè non c'è una persona più intelligente di un'altra una persona che ha maggiori capacità di un altro ma questa è una divisione che viene poi diciamo alimentata dalle convenzioni della società che rendono possibile per alcuni lo studio e il progresso il progresso personale e altri invece debbono diciamo accontentarsi di uno stato di miseria in sostanza guardate che calza molto bene ancora una volta al riferimento al testo al libro il ragazzo che catturò il vento perché lì si vede chiaramente che nel ventesimo secolo e nel ventunesimo secolo questo ragazzo è costretto a rinunciare a studiare perché la sua famiglia non ha i mezzi per pagargli gli studi guardate che se ci pensate per noi sembra una cosa distante però non è così distante ragazzi da noi e se è vero come è vero che delle situazioni di questo tipo ci sono ancora e se è vero come è vero lo sapete che la prima causa di povertà nel mondo è l'analfabetismo quindi per rousseau la disuguaglianza in natura non c'è e poi voglio aggiungervi qualche curiosità perché vi possiate fare un quadro del pensiero di questo filosofo per esempio lui sostiene che l'uomo allo stato di natura è come un altro animale in sostanza che non riflette non progetta non immagina e lui dice non riesce nemmeno ad avere paura della morte pensate rousseau attribuisce a quest'uomo di natura due soli sentimenti il primo che è la tendenza all'autoconservazione che sarebbe l'amore di se stessi l'altro sentimento è però anche la pietà perché quando l'uomo per rousseau vede qualcuno che soffre ha pietà di chi soffre o patisce perché è sensibile e patiamo e soffriamo tanto più quanto più le persone che vediamo soffrire sono nostri simili questo periodo ragazzi ha l'uomo per rousseau anche due facoltà che gradatamente vi siete spaventati quando ho detto che per rousseau l'uomo è come un altro animale però l'uomo ha anche delle facoltà che gradatamente gli consentono di differenziarsi dagli altri animali una è la libertà e l'altra è la capacità di perfezionarsi cioè la possibilità di creare la propria storia e anche di dare contributi alla storia dell'umanità rousseau nota però che con la nascita dell'agricoltura e con la possibilità di lavorare i metalli con la divisione del lavoro e anche con l'aumento dei beni a disposizione di ognuno e quindi con la creazione della proprietà privata si sviluppano anche l'invidia e la competizione e l'amore di se stessi quell'istinto di autoconservazione si trasforma in egoismo e diventa pensate quanto è avanti russo fondamentale il culto della propria immagine sociale così tra gli uomini prende piede la disuguaglianza che la società civile cerca di arginare diciamo con la costituzione di stati nei quali stati le leggi tutelino tutti e però insomma non è all'epoca di russo evidentemente proprio così perché in realtà gli stati a quell'epoca riuscivano ancora a creare disuguaglianza e insomma onestamente facendo riflessioni verso la verità interroghiamoci può essere ancora così vi lascio lì la riflessione per parlare di un'altra figura di illuminista che è quella di Montesquieu partiamo dalla voce che nell'enciclopedia è quella relativa all'autorità viene detto nell'enciclopedia che nessun uomo ha ricevuto dalla natura il diritto di comandare agli altri perché la libertà è un dono del cielo e ogni individuo della stessa specie ha il diritto di goderne appena giunge all'età della ragione cioè appena è in grado di sapere quello che fa è logico che diciamo attribuire un diritto alla libertà a un neonato beh voi ragazzi vi rendete bene conto che questo neonato è fortunato se riesce a campare quindi limitando gli eccessi cerchiamo di comprendere bene qual è lo spirito della parola e della definizione viene detto nell'enciclopedia che se la natura ha stabilito qualche autorità questa autorità è la potestà paterna ma anche la potestà paterna ha i suoi limiti perché finisce quando i figli siano in grado di agire da soli Montesquieu poi individua nella divisione dei poteri a livello statale una soluzione che argina il fatto che in molti stati non si lavori a favore del benessere di tutti mi spiego per esempio un sovrano assolutista francese badava più al proprio vantaggio e al vantaggio delle classi aristocratiche e del clero che non ha il vantaggio del popolo ecco per evitare questa situazione dove qualcuno anzi molti sono svantaggiati rispetto ad altri in uno stato Montesquieu ritiene che la soluzione sia la divisione dei poteri il potere non deve essere accentrato tutto in una singola persona come era il re di Francia ma diviso in legislativo, esecutivo, giudiziario in questo modo a modello della monarchia costituzionale inglese si può perseguire un benessere che è esteso a quante più persone possibile viene celebrata la monarchia costituzionale inglese anche nelle lettere filosofiche di Voltaire che proprio per questo vengono dette anche lettere inglesi l'ultimo dei rappresentanti dell'illuminismo che consideriamo è Voltaire in breve diciamo qualcosa sulla sua opera principale che è Candide o l'optimismo, Candido o l'ottimismo dove si vede bene che il protagonista pur educato in un castello il castello di Dundertentroc a ritenere che quello in cui vive sia il migliore dei mondi possibili imparerà a sue spese che il mondo invece è pieno di cose brutte anche non è tutto bello non è tutto al meglio però è anche vero che con l'esperienza e con l'impegno personale si può cercare di rendere migliore quello che anche va meno bene in conclusione l'illuminismo lo possiamo riassumere con questa espressione latina sapere aude è un'espressione che troviamo in Orazio che è un poeta romano del primo secolo avanti Cristo era originario della regione che attualmente nello stivale corrisponde più o meno alla Basilicata ed è da Orazio appunto che Kant prende questa frase per rispondere a una domanda che gli viene rivolta e che è questa che cos'è l'illuminismo? ho sbagliato la data ho messo 1794 invece 1784 vabbè una decina d'anni l'illuminismo è secondo Kant una presa di coscienza l'illuminismo è uscire da uno stato di minorità di inferiorità e capacità di servirsi del proprio intelletto senza la guida di un'altra persona è molto comodo fare ricadere sempre la colpa delle nostre decisioni su qualcun altro è molto comodo non esercitare il nostro intelletto non esercitare la nostra capacità di scegliere lo vediamo anche alla nostra età nell'adolescenza però è necessario farlo se vogliamo affrancarci da uno stato di inferiorità immaginate un padre che continuasse per tutta la vita a dare la mano al suo bambino quando deve imparare a camminare va bene che questo bambino abbia l'appoggio del padre o della madre, dei genitori, di una persona adulta ma quando questo bambino può cominciare a camminare da solo è bene che osi muovere passi fuori dal proprio girello proprio da solo e magari qualche volta potrà anche cadere però a quel punto avrà imparato anche dopo diverse cadute a camminare ed è questo quindi l'augurio che faccio a tutti voi che piano piano sempre di più e sempre meglio riusciate a essere autonomi in questo cammino progressivo che vi porterà sempre meglio a conoscere voi stessi quindi concludiamo con l'introduzione che Jean-Baptiste d'Alembert scrisse all'Encyclopedie discorso preliminare composto nel 1750 qui lui tratta in sostanza della necessità di disporre in un certo ordine tutte le voci che riguardano il sapere lui spiega che l'opera che andranno a pubblicare e che sperano gli illuministi tutti guardate che era un gruppo di 160 persone oltre i nomi di spicco, di Drew, d'Alembert che speravano di portare a termine aveva due scopi doveva esporre nel modo più esatto possibile l'ordine e la connessione delle conoscenze umane quando vi diciamo fate la tesina ma deve esserci una relazione tra gli argomenti tutto deve essere connesso e poi doveva spiegare i principi generali su cui si fonda ogni scienza ed arte l'ambizione di questa enciclopedia era fare in modo che tutte le scienze tutte le discipline venissero trattate con la medesima dignità non ci sarebbe stata come nel Medioevo una disciplina superiore alle altre nel Medioevo era la teologia ma ci sarebbe stata uguale dignità per ogni voce e sarebbe stato poi il lettore che avrebbe avuto la possibilità di osservare le varie realtà da questi punti di vista diversi ma tutti ugualmente validi senza che al lettore venisse imposto un unico sistema della conoscenza umana senza che gli autori arrivassero ad affermare che una disciplina è superiore ad un'altra proprio come quando noi riteniamo che tutte le discipline a scuola siano meritevoli di essere conosciute perché tutte possono servire alla formazione della nostra persona ragazzi tutto è importante aude sapere sapere aude osa sapere qualsiasi curiosità ti venga in mente cerca di soddisfarla come fai a soddisfarla con lo studio con una quantità di testi che sono a tua disposizione ovunque adesso anche di più sul web grazie a tutti